A che ora esci oggi da scuola? Faccio controllo stamani Torna presto amore Non ti prepari? Non ci vengo a scuola oggi Allora ragazzi oggi parliamo di Robert Frost Nella sua poetica lui metteva la natura come metafora della vita L'uomo è attratto dall'esterno Anche quando si troverà a dover combattere con cose più grandi di lui Lui continuerà a farlo Dobbiamo andare via tutti stanno se ne fanno andare alla scuola Là fuori c'è una guerra e questo continua a restare ancora il posto più sicuro L'esercito sta facendo il massimo per evacuare le zone sottotate Generale la prego Ti devo tornare a prendere Noi dobbiamo resistere ragazzi Siamo quell'ultima resistenza e ce la possiamo fare Guardami Non morire un po' dentro Dobbiamo aver fiducia in noi Cercavi di aver fiducia in me Grazie 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 Grazie